Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. L'illustre cuoco 34enne di Cassina è stato trovato senza vita nel suo appartamento di New York, ma per ora non emergono le cause del decesso, sebbene l'ipotesi plausibile sia un improvviso malore. La famiglia ha già avviato le pratiche per riportare il corpo in Italia. Al momento, non sono in corso indagini, ma le ragioni della morte rimangono un enigma. Il giovane chef era emigrato da anni nel piccolo centro in cui è cresciuto. Fu portiere nella squadra di calcio locale. Dopo gli studi e un'esperienza nelle importanti cucine milanesi come stagista diventò chef di reparto e lavorò in resort di lusso alle Bermuda e in un ristorante nell'Ovest. Era atteso a casa in settembre per le sue consuete vacanze con famiglia e amici. Parliamo di Riccardo Zebro, uno degli chef più brillanti della nostra comunità, che ha trovato successo lontano da Cassina. Tuttavia, ha sempre portato la sua terra e il suo popolo nel cuore. Grazie per la visione e al prossimo video. Ehi, non mancare!